Benevento 1 a 0 Una partita che è stata brutta, penso si possa dire tranquillamente La posta in paglio molto alta naturalmente È una sfida da valutare sul doppio confronto Ci sarà ritorno in casa del Pisa Il Pisa con due pareggi si sarebbe qualificato Forse gli uomini di D'Angelo hanno giocato una partita un po' troppo controllata Perché credo che in realtà le possibilità della squadra pisana siano molto maggiori Sia una squadra che abbia un potenziale anche offensivo molto grande E non avrebbe forse dovuto accontentarsi di giocare una partita soltanto per pareggiare Benevento ha comunque fatto molta fatica Creare occasioni da gol E la partita è stata decisa dal fattore La Padula Ovvero a 5 minuti alla fine, forse meno Un cross alla sinistra di D'Angelo Un rimpallo stavolta di Beruato Palla colpita da Beruato inadvertitamente E La Padula prontissimo a mettere il pallone in rete Sostanzialmente una delle pochissime palle gol di una gara Che come detto è stata molto controllata, molto equilibrata Avrebbe dovuto finire 0 a 0 Probabilmente se non ci fosse stato in campo un bomber preciso come La Padula Quello che non mi è piaciuto del Pisa La scelta anche di partire col bomber Lucca Lucca non segna da una vita, non segna sua azione da settembre E mi sembra molto involuto anche come modo di giocare Ha fatto troppo poco e là davanti è mancato qualcosa Quando è entrato Torregrossa peraltro insieme a Lucca Il Pisa subito è stato un po' più pericoloso Credo che Torregrossa nei pochi minuti in campo Abbia fatto molto di più di quello che Lucca Abbia fatto in tutto il tempo che è rimasto in campo Il Benevento ha giocato il suo calcio Un calcio molto tattico, molto accorto È una squadra di grande esperienza È una squadra che ha vinto ad Ascoli Contro quella che secondo me poteva essere una rivale Molto pericolosa per la lotta e la promozione Ha giocato anche qui la sua partita Sfruttato l'opportunità E credo che questo gli darà un notevole vantaggio Comunque nella gara di ritorno Proprio per le capacità del Benevento Di intormidire la partita Con la sua capacità difensiva E la sua capacità tattica Il Pisa inveceversa dovrà buttarsi l'attacco Basta vincere con la formula Basterà anche vincere semplicemente per 1-0 O per il fatto di essersi classificata meglio nel girone ed andata Però mi aspetto giocarsela Giocarsela non è più il Pisa di inizio campionato L'abbiamo detto Non è mai stata comunque una squadra Però è una squadra che ad Arena Garibaldi Ha sempre fatto benissimo E quindi questo penso possa essere un grande fattore Mi aspettavo di più Devo dire sinceramente dalla partita Non è stata particolarmente È stata intensa Sicuramente non cattiva O non particolarmente cattiva E nel complesso mi sarei aspettato Una gara più gagliarda Da parte di entrambe le formazioni Però ripeto probabilmente Il fatto che si giochi sul doppio confronto La partita secca come nei quarti di finale Dà l'emozione di doversi giocare tutto subito E sia Ascoli Benevento che Brescia Perugia Erano state due gare molto più intense Ma anche bella da un punto di vista tecnico Credo oltre che da un punto di vista Delle emozioni della gara Quindi vediamo le pagelle di questa sfida Per quanto riguarda il Benevento 6 a Paleari 6 a Letizia 6 e mezzo a Glick 7 a Barba A mio avviso è stato molto bravo A contenere gli avanti del Pisa 6 e mezzo a Masciangelo Qua anche stavolta un bel centro Stavolta fortunato ovviamente Perché la carambola di Berguatto Non era voluta Però fa sempre bene sulla sua fascia 6 a Insigne 6 e mezzo a Calò 6 a Campora 6 a Teio Che rispetto alla partita di Ascoli Ho visto meno coinvolto nel gioco 7 alla Padula Perché ragazzi ha toccato sostanzialmente Ha avuto una chance E l'ha messa in rete Cosa gli si può dire E 6 a Improta Per quanto riguarda il Pisa 6 a Nicolas 6 e mezzo a Birindelli Che soprattutto nel primo tempo Ha giocato molto bene Pisa peraltro Non va dimenticato Coppia centrale Le Verbe Caracciolo Una delle migliori del campionato Non c'è Caracciolo Ha giocato De Vitis De Vitis si è infortunato In una scivolata In mezzo all'area A circa Dopo un quarto d'ora del secondo tempo È entrato Ha dovuto spostarsi È entrato Berra Ha dovuto spostarsi Birindelli Come centrale Pisa Neanche molto fortunato Vediamo se si riprenderà Hermanson Per giocare con dei centrali Diciamo Più di ruolo La seconda partita E vedere poi De Vitis Naturalmente quanto ne avrà 6 a Le Verbe 6 a De Vitis Che a mio avviso Ha giocato bene 6 a Beruato 5 e mezzo a Touré Lì Sull'angolo Sulla fascia Meno decisivo Di altre volte 6 a Noji 6 e mezzo a Marin Nel primo tempo Una bellissima serpentina Di Marin Con solo la decisione finale Sbagliata Ma un'ottima azione 6 e mezzo a Sibilli Che quanto a colpi Di giocate È un giocatore Veramente di grande classe 5 e mezzo a Puskas E 4 e mezzo a Lucca Mi è piaciuto Torregrossa E credo E spero Che sarà lui Per il Pisa Il titolare Nella gara di ritorno Ha arbitrato Prontera 6 e mezzo Per me Il voto per lui Non mi è dispiaciuto Assolutamente La gestione complessiva Della partita Sicuramente Ha invertito Qualche fallo Sicuramente Non è stata Un'apprezzazione Perfetta Ma nel complesso Credo sia stata Una gara Discreta Di un buon Di un buon arbitro Sicuramente Playoff Ora abbiamo Brescia contro Monza Derby Lombardo Fischia Aureliano Partita molto Interessante Soprattutto Poi venerdì Ragazzi Cosenza Vicenza Arbitra Massa Questa è una partita Che non vedo l'ora Di vedere Poi nel weekend Vedremo questa gara Di ritorno Fatemi sapere Cosa ne pensate E secondo voi Chi ha più chance Di passare Credo Io in questo momento Ho seguito tante partite Del Pisa Quest'anno L'ho visto giocare Molto bene Mi piacerebbe vedere Un Pisa Che giocasse All'arrembaggio Come tante volte Ha saputo fare Nelle partite casalinghe Ma il benevento Sono curioso Di vedere Anche se saprà Rioffrire Come ad Ascoli Una grande prestazione Di consistenza Difensiva Grande semifinale Ci sentiamo Per il ritorno Grazie a tutti Un bacio E ciao a tutti Deluxe